Ciao a tutti ragazzi e ragazze, nel video di oggi, finalmente, anche se un po' in ritardo, voglio parlarvi delle letture, quindi del wrap up degli ultimi due mesi passati. Quindi si torna a 2018 e torniamo in maniera specifica al novembre-dicembre 2018. Visto che ho otto libri da nominarvi, di cui parlare un attimo, non voglio farlo diventare un video lungo, quindi iniziamo col promo e poi passiamo direttamente alle letture fatte negli ultimi due mesi. Se non sei ancora iscritto, iscriviti, lascia un bel mi piace a questo video e se voglia, condividilo. Come sempre, troverai giù nella info box tutti i link che ti possono interessare, come libri di cui parlo, ma più importanti sono sempre i link Amazon e EBS del mio libro Alma. Andate giù a cliccare perché attraverso quei link avrete la possibilità di leggere le prime 20 pagine in maniera completamente gratuita. E se poi la lettura mi incuriosisce e la volete continuare, avrete la possibilità di prendere il testo in maniera cartacea o in maniera online, diciamo, più versione ebook. E quindi avete tutte le possibilità di questo mondo. Non dimentichiamoci inoltre anche la mia pagina Instagram, che sarà sempre linkata giù da infobox, che si chiama The Next Lecture, perché io amo fare fotografie, mi piace un po' sperimentare, sempre la maggior parte insieme a fotografie sono riguardo ai libri, ovviamente, però se vi interessa un po' vedere qualche fotografia che faccio in giro per librerie o biblioteca, eccetera, andate a controllare. Detto questo, direi di incominciare immediatamente a parlare di libri. Il primo libro di cui voglio parlarvi oggi è un libro di Banana Yoshimoto che si chiama N.P. Come sapete voi, o forse no, adesso ve lo dico, vi leggo moltissimi libri di Banana Yoshimoto, sto cercando, nella maniera più veloce possibile, di leggere tutti quanti. Questo libro mi è piaciuto molto, come potete vedere ho preso molti segnalibri, diciamo, ho segnato tantissime frasi che mi sono piaciute un sacco. La trama è abbastanza complessa, anche perché tutti i libri di Banana Yoshimoto hanno proprio, diciamo, un filo conduttore, una tematica più che una vera e propria trama, diciamo. Così parla moltissimo di tematiche che, secondo me, rispetto anche agli altri testi, sono molto più cupi, tematiche che quindi sono molto più cupi rispetto agli altri mini romanzi che ho letto suoi. ha anche una certa sensualità che io da un po' che leggevo nei suoi testi. Questi due, diciamo, punti che secondo me sono scaturiti un po' di più rispetto ai libri, ripeto, soliti suoi. C'è sempre una grande poesia, questa è una cosa che è tipica sua e non manca anche in questo libro, e ci sono un sacco di intrecci e di intreghi familiari che, secondo me, sono ben costruiti e sono ben applicati attraverso le pagine. Tanto per dare una sorta di piccolo spunto di trama, io poi vi consiglio, come sempre, di andare giù a controllare nella info box per leggere in maniera più chiara le trame su internet. Tutto si svolge attorno al ritrovamento di questo novantottesimo raccolto scritto da un autore che è morto, suicida. E sembra che ogni persona che viene ad essere raccontata con questo novantesimo raccolto in qualche modo si ritrova a suicidarsi. E quindi forse è proprio per questo che c'è questa linea di cuprezza, di tenebra, che è molto più pressante rispetto agli altri testi. Mi piace moltissimo, come sempre lo dico, come lei riesce a rendere ogni cosa affascinante e poetica. Anche qua abbiamo dei personaggi delicatissimi, molto molto ben costruiti, visto che è un testino piccolino, molto molto breve. Io vi consiglio, come sempre, perché lo amo, andare a leggere Banana Yoshimoto. Non voglio però dilungarmi perché ho altri due testi letti nel corso dei due mesi suoi, quindi andrei completamente a ripetermi. Il secondo libro che ho letto a novembre è un testo che probabilmente, anzi, tolgo più probabilmente, è stato uno dei miei preferiti di tutto l'anno 2018. Infatti l'ho nominato anche nel video dei Best e dei Worst 2018. Io sto parlando degli strani delitti di Steve House di Cazizian. Qui si parla della serie di Intrighi di Sidney Grease, un po' una sorta di alias, se vogliamo, di Sherlock Holmes, è un personaggio molto molto simile, perché ho adorato questo testo. Io amo la collezione dei suoi racconti, dei romanzi di questo autore e di questi personaggi, quindi mi sono proprio ributtata in un mondo che già conoscevo e che già amavo in precedenza, ma secondo me con questo libro l'autore ha proprio fatto rinascere in me una serie di emozioni fortissime, che quasi non ricordavo, insomma, dai testi precedenti. Basti pensare, forse avevo già detto anche questo nel video precedente, che con il finale, diciamo, di questo libro io ho letteralmente pianto, sono rimasta veramente male, ho come sentito il cuore spezzarsi per una scelta dell'autore che non mi sarei mai aspettata, perché veramente sbuca fuori così da nulla, straziante, che però ovviamente purtroppo tiene il lettore sospeso e attaccato poi alla storia. Spero vivamente che ce ne siano degli altri, questo non lo so ancora perché non mi sono ancora ben informata. Anche qua gli intrivi sono sempre ben costruiti, mi piace moltissimo l'ironia che utilizza l'autore in questi testi, un'ironia che io apprezzo, ho sempre apprezzato, quindi anche in questo caso è meravigliosa, perché ama anche magari un po' le storie di Sherlock Holmes, non so se è una mezza più intrisa, ancora di più di ironia, chiama il mondo inglese dell'Ottocento, vuole un po' buttarsi in queste situazioni, questo testo è meraviglioso, io adoro, quindi mi sto ripetendo come sempre, quando poi una cosa mi piace e vado a capofitto e cercando di sottolineare il fatto che è meraviglioso. Quindi, L'Istranded Little Steve House, seconda lettura, quindi secondo libro wrap up di oggi. Allora, terzo libro di questo video è La vacanza ideale di Claire Douglas, primo libro in assoluto che io leggo di questa autrice e cosa ne penso? Prima, anzi, prima ancora di dire cosa ne penso, cerco anche sempre qua di buttargli una sorta di trama. Abbiamo la protagonista della storia che insieme al suo giovane e fresco marito dice di fare questo scambio di case con una coppia che ha bisogno di trasferirsi momentaneamente a Bath, dove appunto la protagonista vive. in questa coppia diciamo che i protagonisti vogliono spostarsi anche solo per una settimana, per due settimane, per staccare un po' la vita quotidiana che in qualche modo si sta complicando a causa del lavoro, a causa della quotidianità, insomma. Però con la scelta di fare questo scambio di case, un po' di cose andranno storte e dei segreti del passato della protagonista e verrà una galla in maniera inesorabile, anche molto pericolosa. La trama mi ha subito intrigata, sino a quando l'ho cercata, trovata su internet. Il ritmo è molto serrato, il che è piacevole, nel senso che se tu leggi un thriller, è sempre il teatro sospeso, ti trovi sempre, tu come lettore, a voler continuare la lettura. La cosa che non mi è piaciuta moltissimo è stato proprio come è stato scritto il libro, ho tradotto questo, non saprei dirlo, perché è molto molto semplicistico e quindi un po' l'ho trovato per alcuni versi superficiale, perché come scrittura, secondo me, il ritmo da Venea poteva essere reso un attimino meno sempliciotto come appunto tipo di scrittura. Un'altra cosa che mi ha infastidito è il fatto che, nonostante parte bella, ci fosse, mi desse molta importanza autrice anche ai legami personali della protagonista, dei protagonisti, talvolta alcuni tipi di intreccia, alcuni tipi di legami un po' mi infastidivano. C'erano un paio di personaggi che non finivano di piacermi e forse credo che anche questa parte mi abbia un po' fatto storcire il naso in alcune pagine, in alcune scene, perché non finivano appunto di piacermi. Loro, o come parlavano, o come rispondevano, però questa è una cosa molto mia, nel senso molto personale, dei gusti personalissimi del personaggio in sé. Ultima cosa che voglio dirvi è che mi è piaciuta moltissimo la scelta del finale, che non mi aspettavo, grazie Dio, perché alcune cose avevo intuite, comunque avevo indovinate, e non mi succede spesso perché sono una che legge senza stare a riflettere tanto, ma in questo caso alcune le ho intuite. Però il finale finale mi è piaciuto come scelta, non è stata scontata ed apprezzata. Quindi per chi ama comunque i thriller è comunque più un sì che un no, ci sono tante delle cose che, ok, non mi sono piaciute moltissimo, però non è stata niente male. Mi piacerebbe magari in futuro leggere anche Le sorelle, che è un romanzo sempre scritto da questa autrice, che è uscito prima di questo, che però non l'avevo trovato in libreria, e quindi sicuramente, spero perlomeno, di leggere anche quello. Sul prossimo libro voglio soffermarmi veramente veramente poco, si tratta del secondo testo di Mananegu Shimoto, che ho detto in questi ultimi due mesi, in questo caso il libro è Lucertola. Allora, questa qui è una serie di racconti, sono un insieme di sei racconti, dove un po' il figlio conduttore è appunto le ferite che portano dentro di sé tutti i personaggi. Sono personaggi che sono feriti da storie d'amore passate o del presente, da vite che non sembrano avere senso, e comunque personaggi feriti, persone ferite, che dire, visto che le trame non si possono raccontare, perché sono sei racconti diversi, molto brevi, intensi tutti, come dicevo anche prima, poetici, mi piace tantissimo sempre questo suo aspetto, che è quello che mi lega tantissimo a lei, riesce in ogni caso a calmarmi sempre, a darmi questo senso di pace, nonostante a volte le tematiche siano, per l'appunto, non molto felici, però, che dire, io l'ho amato tantissimo, ci sono delle frasi che devo sottolineare, perché mi piace moltissimo come lei ragiona, fuori proprio dagli schemi, e si sentono tantissimo le sue radici giapponesi in tutti i suoi testi, credo che è una cosa che proprio vale per tutti gli autori giapponesi e orientali, hanno proprio una mentalità diversa dalla nostra, e lo si può notare anche attraverso i loro testi, quindi ho amato questo piccolo libricino, ma per questo per oggi ho già finito con la mia super fast recensione. Un altro libro che ho letto in questi ultimi due mesi, l'ho preso principalmente per l'autrice, perché volevo un po' testare appunto questo nome, l'autrice in questione è Camilla Lackberg, e il testo è La principessa di Ghiaccio. Allora, l'ho letto molto molto in fretta, e inizialmente pensavo che la cosa potesse essere un punto a favore del libro, nel senso che se lei è un libro in fretta, vuol dire che a me piace moltissimo, e quindi voglio continuarlo, però mi sono resa conto che finito il libro, finito il testo, sono rimasta un po' con la mano in bocca. Avevo visto in libri che c'è una serie quasi, dico infinita, di libri che riguardano le storie, di questa protagonista, di questi protagonisti, e quindi sono volta per ripartire dal primo, che sono i delitti di, ogni volta mi faccio fatichissima a pronunciare, a Fialbacca, o qualcosa spero, io non dirò più una castroneria, i delitti di Fialbacca, e questo è il numero uno. L'ho trovato un pochino scialbo, secondo me per un amante, amante del genere thriller, c'è di meglio in giro, e come mi sono sentita, c'erano tantissimi secondo me vuoti, che non c'entravano tanto poi con la storia, che potevano essere anche un attimo dimenticati, messi da parte, importantissimi, dà molta importanza anche alle relazioni sentimentali, che può andare perché a me piacciono molto le relazioni sentimentali, ma non mi hanno colpito moltissimo neanche quelle, è abbastanza scialbe, possiamo dire anche quelle, e forse per il fatto proprio che abbia tanti volumi questa serie, di questi delitti, diciamo quindi di questi protagonisti, certe cose sono molto 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 lenti a nascere, e a essere sviluppate, e forse leggendo solo un testo, certe cose non le si notano bene, hanno una sufficienza, bisogna aspettare, ma forse diciamo che l'unica cosa da fare, è appunto aspettare un attimo e leggere gli altri volumi, perlomeno un secondo, e vedere se poi la curiosità torna ad alla, o perlomeno compare nel mio caso. Mi piace veramente tanto perché avrei voluto poter inserire Camilla Lackberg come autrice nordica tra i miei preferiti, so che adoro questo genere, adoro gli autori nordici, magari farò davvero questa cosa, leggerò il secondo di questa saga, e vediamo come andrà insomma. Ultimo testo di Banana Yoshimoto detto in questo periodo è Amarita, Allora questo praticamente credo che sia il libro suo più lungo che io abbia letto, e di cosa parla? Praticamente volendo essere un po' appunto sempre generici, visto che è difficile parlare di una vera e propria trama nei suoi testi, parla di questa famiglia allargata, che è molto bizzarra, come sempre, che è ancora molto fresco, il ricordo della morte della sorella maggiore, molto importante anche il fratello minore della protagonista principale, perché ha una grande connessione con la spiritualità. E una cosa che ho notato, tralasciando tutte le cose che ho già detto in precedenza per gli altri due testi, è l'importanza mastodontica che dà in questo testo, autrice, ai sogni, alla spiritualità, come dicevo poc'anzi, ma anche ai colori. Descrive ogni cosa in maniera unica, in maniera sempre poetica, in maniera elegante, e talvolta bizzarra, cosa che io adoro tantissimo. Anche il fatto stesso che fosse leggermente più lungo degli altri, ha fatto sì che in qualche modo riuscisse a entrare di più nel cuore di tutti i personaggi, e come sempre, dal momento che ogni cosa che scrive per me è sublime, mi sento troppo di parte, io vi consiglio di andare a leggere bene la trama anche di questo, perché l'ho adorato, ho amato i personaggi, farmi emozionare tantissimo da tutte queste pagine. Penultimo libro di cui voglio parlarvi oggi, è La Voce delle Ombre, di Frances Hardinge, Allora, questo qui è un fantasy, ambientato nel Seicento, in cui la protagonista, Make Peace, ha questa incredibile capacità di poter non solo interagire con gli spiriti delle persone morte, ma di farli entrare dentro di sé. Non voglio dirvi molto altro sulla trama, però vi ho subito dirvi cosa mi è piaciuto. Mi è piaciuto moltissimo il fatto che, nonostante io non immaginassi neanche, cioè un millesimo, la storia di questo testo, dove volesse portarmi all'autore, ho apprezzato veramente l'avventura di questa protagonista, come si seguiva in tutto quanto. Mettendo anche il fatto che è un fantasy, che nel mio genere prediletto, io l'ho apprezzato veramente, veramente molto, questo è ancora un surplus, e anche il tipo di scrittura, che era semplice, ma non stupido, quindi la giustissima ve di mezzo, che mi ha anche questa intrigata, quindi anche molto intelligente, anche se pure per i più piccoli, per i più giovani, è un po' per tutti, insomma, lo consiglio, sì, tantissimo, chissà se faranno mai un seguito di questo, mi è anche piaciuto molto l'umorismo utilizzato dall'autore per i personaggi, per le storie, e tutto quanto, personaggi belli, come dicevo, lo stile è anche equilibrato, quindi a tutte le qualità, per essere una buonissima lettura. Sorprendentemente, questo libro mi è piaciuto veramente tanto, quasi più del primo. La protagonista è una dottoressa, una psichiatra, che lavora, per l'appunto, in Alaska, in questo istituto psichiatrico, che si chiama Hanover House. Un'altra cosa importante da ricordare è l'esperienza che ha subito, una dracica esperienza che ha subito nella sua adolescenza, quando è stata torturata, è abusata, e ha visto i suoi migliore amici morire, per mano del suo ragazzo dell'epoca. Mi sembra questo essere un déjà vu dell'ultimo video che ho pubblicato, e poi non riuscivo più a finire di filmare con questa macchina fotografica. Ci ho tentato anche oggi, ma niente da fare, quindi concludo con il telefono, che se va avanti così farò sempre solo attraverso il telefono, che è molto più comodo. Mi piace a volte cercare di dare un attimino più qualità al video, ma letteralmente mi è impossibile, perché la macchina fotografica continua a bloccarsi. Ha fatta questa piccola mini, mini, mini sfuriata contro la mia tecnologia. Andiamo avanti a parlare del libro di cui stavo parlando poc'anzi. Stavo parlando, insomma, delle esperienze tragiche che ha vissuto nella sua adolescenza la protagonista, e che l'ha plasmata fino a farla volere cambiare, diciamo, il mondo, e quindi cercare magari di salvare altre persone, che potrebbero incappare in personaggi simili. Molto, molto interessante è stato come l'autrice ha voluto continuare a prendere in mano il personaggio dell'antagonista, diciamo, di questo cattivo, che dall'adolescenza della protagonista continua in qualche modo a seguirla, e la intralcia anche ai giorni nostri, quindi non solo ai tempi di Alaska, ma anche di Hanover House. Poteva continuare in maniera più noiosa, e invece, in questo così, mi è piaciuto molto il tipo di avanzamento che ha voluto dare l'antagonista al cattivo, quindi molto più spazio anche alla sua voce, alla sua storia, e mi è strapiaciuto il modo in cui ha voluto far finire questo secondo, visto che mi ha fatto intuire, innanzitutto, che ci sarà un terzo, e più che intuire, mi ha dato proprio un sacco di spunti possibili per una terza storia, spero che risca il prima possibile, perché sembra super intrigante, non voglio dirvi molto di più, perché non è il caso, è un consiglio, perché se non avete letto il primo, ovviamente, ne legge Alaska prima, e poi questo, che è stra 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 bello, mi è strapiaciuto, non me lo aspettavo, forse, non so, perché avevo più sentimenti mixati con il primo, con questo ho avuto meno problemi a leggere, non so, perché è una cosa che solitamente capita all'opposto, con i primi e i secondi libri di una sala, niente, detto questo, finalmente sono riuscita a finire di parlare di tutti i libri, il wrap up che mi stavo portando appresso da troppi giorni, l'ho fatto un po' in ritardo, perché siamo già quasi alla fine di gennaio, ma è comunque bello potervi parlare delle mie letture, sperando sempre, incrociando sempre le dita, che qualcosa vi possa interessare e vi possa insomma dare uno spunto per una possibile lettura. Io vi ringrazio come sempre per essere arrivati fino in fondo al video assieme a me, se qualche libro vi è interessato andate già a cercare, andate anche a guardare la mia pagina Instagram e a leggere le prime 20 pagine del mio libro, sto facendo delle sortate di promo, attaccate le promo solo alla fine del video, e gli ringraziamenti quindi ve li ho fatti, spero che vi sia piaciuto questo video, sperando che la prossima volta magari funzioni la fotocamera, altrimenti abdico e non la utilizzo mai più, io spero vi vedervi molto presto in un prossimo video, detto questo vi mando un grosso grosso bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!